Il segno zodiacale della bilancia Bilancia che vivrà una domenica bellissima Uscite di casa, bilancini, avete bisogno di respirare Aria fresca, pulita, nuova Sotto tutti i punti di vista questo significa Non solo proprio uscire fisicamente di casa Fare una breve gita, andare a trovare magari un paletto un po' più distante Ma anche a livello proprio psicologico Di vivere qualcosa di nuovo, qualche esperienza nuova Di tuffarvi in magari una piccola o grande avventura Farlo magari a casa davanti al computer risulta un po' riduttino Avete bisogno di movimento proprio fisico Voi amici della bilancia Ma questa è una porta delle belle emozioni Soprattutto per l'amore Questo va detto eh